Gli amanti della Formula E gruppo Facebook si congratula con gli amici di Electric Motor News per le 100 gare in presenza. Complimenti, ciao a tutti. Grazie a tutti per l'amico, per l'amico, per l'amico e per l'amico. Grazie a tutti per l'amico, per l'amico, per l'amico, per l'amico e per l'amico.